Ciao a tutti e benvenuti a una nuova recensione di Novel Salad. Oggi vi voglio presentare un romanzo piuttosto breve che è Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern. Io l'ho letto velocemente in edizione e in audi, questa, quindi tranquillissima. Allora, di cosa parla? Il tema è la ritirata dei soldati italiani dalla Russia nel 1943, quindi il sergente nella neve è appunto Mario Rigoni Stern che deve sostanzialmente uscire da una sacca in cui i russi avevano imprigionato gli italiani attraversando il Don e ritornando poi in territorio difeso dai tedeschi. Allora, il tipo di scrittura a me ha ricordato molto Hemingway, nel senso che è una scrittura molto asciutta, molto d'azione, c'è poco spazio per l'introspezione, c'è veramente tanta azione. Questo secondo me è normale ed è funzionale proprio alla scrittura di guerra, nel senso che mi ha dato l'impressione leggendolo che lì non ci fosse tempo per pensare. E quindi il sergente Rigoni agisce e racconta quello che fa, a partire dalle ultime ore nell'etane, come chiama lui, degli italiani, fino poi alla decisione della ritirata. Quindi a livello di scrittura sicuramente è una scrittura adatta a chi ama lo stile asciutto e senza troppa aggettivazione. A livello di trama, all'inizio è piuttosto lenta, perché c'è appunto questo tema dell'attesa, della fuga, di attesa di ordini che non arrivano, di attesa di generali che non si fanno sentire, fino poi ad arrivare invece alla parte finale che è molto concitata e molto umana, molto più della precedente. Avviene anche un'evoluzione poi in realtà del personaggio principale, che è appunto Rigoni Stern, all'inizio egli è un personaggio assolutamente coinvolto nella vita del gruppo, anzi è lui che tiene coeso il gruppo, il gruppo di lui a grande stima. Alla fine la stanchezza, la morte di tanti compagni lo porta a proseguire praticamente da solo. Per questa recensione ho scelto di leggervi alcuni passi che a me sono piaciuti molto, e ve li leggo quindi. Allora, qui vi presento una parte in cui appunto il sergente entra in una isba russa e che lui non sa essere abitata, è piena di soldati russi. Vi sono dei soldati russi là? Dei prigionieri? No. Sono armati. Con la stella rossa sul berretto, io in mano il fucile, li guardo impietrito. Essi stanno mangiando attorno alla tavola. Prendono il cibo con il cucchiaio di legno da una zuppiera comune e mi guardano con i cucchiai sospesi a mezz'aria. Io faccio un passo avanti, mi metto il fucile in spalla e mangio. Il tempo non esiste più. I soldati russi mi guardano, le donne mi guardano, i bambini mi guardano. Nessuno fiata. C'è solo il rumore del mio cucchiaio nel piatto ed ogni mia boccata. Spassiva, dico quando ho finito. E la donna prende dalle mie mani il piatto vuoto. Pasausta mi risponde con semplicità. I soldati russi mi guardano uscire senza che si siano mossi. Questo è uno dei punti, secondo me, più toccanti del libro. Ce ne sono molti altri, vi ho fatto necessariamente una selezione, perché appunto dimostra un po' un senso di umanità anche tra appartenenti a schieramenti diversi. Poi ne ho scelto un altro che mi piaceva. Ecco qua, sì, si capisce, qui c'è il compianto un po' per i compagni morti, no? Parto da qui. E anche Joanin è morto. Ecco Joanin, ci sei arrivato a Baita. Ci arriveremo tutti. Joanin è morto portandomi le munizioni per la pesante quando ero giù al paese e sparavo. È morto sulla neve anche lui, nel ricovero. Stava sempre nella nicchia vicino alla stufa e aveva sempre freddo. Anche il cappellano del battaglione è morto. Buon Natale, ragazzi, e pace. È morto per andare a prendere un ferito mentre sparavano. State sereni e scrivete a casa. Buon Natale, cappellano. E anche il capitano è morto, il contrabbandiere di Valstagna. Aveva il petto passato da parte a parte. I conducenti, quella sera, lo misero su una slitta e lo portarono fuori dalla sacca. Morì all'ospedale di Kharkov. E via dicendo. Quindi, anche qui, una volta che si è letto il libro e passa in rassegna tutti i personaggi, si viene presi un po', secondo me, da un senso di commozione. E l'ultimo passo che volevo leggervi è quello in cui il sergente, di fatto, rimane solo con se stesso. Quando mi svegliai, trovai che le scarpe mi si erano bruciate ai piedi. Sentì un rumore di gente che si preparava a partire. Non trovai più nessuno della mia compagnia né del battaglione. Nel buio, persi anche Bodei e rimasi solo. Cercavo di camminare più in fretta possibile, perché i russi potevano ritentare di agganciarci. Era ancora notte, c'era un gran trambusto per il paese. Feriti gemevano sulla neve e nelle lisbe. Ma io, ormai, non pensavo più a niente. Neanche alla baita. Ero arido come un sasso e come un sasso venivo rotolato dal torrente. Non mi curavo di cercare i miei compagni e, dopo, nemmeno di camminare in fretta. Proprio come un sasso rotolato dal torrente. Più niente mi faceva impressione. Più niente mi commuoveva. Quindi vedete che, appunto, anche qui c'è proprio questa evoluzione molto forte del personaggio. Quindi, allora, libro che mi è piaciuto. Non è forse tantissimo il mio genere, nel senso che la scrittura di guerra a un certo punto non è talmente densa, talmente carica di significati e di valori che secondo me va presa un pochino a piccole dosi. Però per gli amanti del genere è sicuramente un ottimo libro. Io darei tre stelle sul cinque, nel senso che mi sono piaciute tante parti, però, appunto, forse, appunto, il limite mio, la scrittura di guerra, diciamo, riesco fino a un certo punto a, diciamo, a macinarla. Eventualmente anche quattro su cinque potrebbe andar bene. È molto molto bello. Però, insomma, un grande classico così e con un tema così non si valuta neanche in stelline, insomma. Quindi, semplicemente leggetelo se siete amanti di questo genere perché assolutamente merita. Con questa ultima recensione vi saluto e ci diamo appuntamento alla prossima volta.